Ciao ragazzi, sono emozionatissimo perché sto per coronare uno dei miei più grandi sogni da oltre 20 anni di ricerca spirituale. Sto per intervistare Greg Braden, per me proprio il top del top. Faremo una domanda a Braden che forse sta a cuore tantissimo proprio a noi redettori di Ricchezza Vera, cioè cos'è la ricchezza vera per Greg Braden. Qual è per Greg Braden la vera ricchezza vera in vita? Da mia perspectiva, quando possiamo vivere il nostro potenziale, questo è quello che porta la grande ricchezza nella nostra vita. E sempre stiamo a imparare questo potenziale. Stiamo a imparare quando siamo figli, crediamo che siamo limitati in certi modi. e dopo la nostra esperienza di vita, abbiamo capito che questi limiti non sempre sono limitati. La nuova scienza ci sta mostrando il potenziale di massimo di humana. Ci siamo disegnati, biologicamente iniziati, per creare. Ci siamo biologicamente iniziati, per regenerare. Ci siamo biologicamente iniziati, per interagire con questo campo, in modo che non avevamo mai studiato quando avevamo ragione. Quindi, invece di essere separati dal mondo, abbiamo capito che siamo parte del mondo. E come parte del mondo, significa che siamo parte della nostra cura, siamo parte della nostra abbondanza, siamo parte della creazione delle nostre relazioni, siamo parte della creazione della nostra città, ci siamo parte della creazione della nostra città, e credo che, ultimamente, abbiamo capito che la evoluzione, Darwin'idea di evoluzione non è la nostra storia. La scienza non è più supporta, la evidenza non è più supporta Darwin'idea. La evidenza di DNA è ora dicendo che evoluzione non può essere responsabile per quello che ha avuto 200,000 anni fa per creare la humana che noi siamo oggi. E le scienze dicono che sembra che la fusione della DNA è intenzionale. Ora, non sappiamo chi, o che, o che, o che. Ma qui è perché è importante. E io non sappiamo chi, o che, o che, o che. Ma che è intenzionale che siamo intenzionati, che siamo intenzionati a creare questo grande potenzione che abbiamo nella nostra città, che siamo intenzionati a usare questa capacità per l'emotione, per l'empattimento, per l'empattimento, per l'opportunità, per l'opportunità, per la creatività. che siamo intenzionati a fare questo. E una volta che abbiamo capito questo, poi possiamo rilasciare questo potenzione nelle nostre lezioni. Penso che questo è da dove la grande città viene. Grazie mille. Grazie mille. Quindi, allocare il 100% del DNA è la vera città, perché sei il tuo potenzione. E noi stiamo solo insegnando quello che questo potenzione è. E noi stiamo solo iniziando a scoprire la superficie. E noi stiamo solo iniziando a capire. Lo che noi sappiamo è che quando io ero ero, l'occhio è il nostro organo del corpo. E io credo che la maggior parte dei nostri ascolti. E noi sappiamo che l'occhio è importante, ma l'occhio recebe le informazioni da l'occhio. E l'occhio è regolato da l'emotione humana, e come noi sentiamo la nostra vita, come noi percepiamo la nostra vita. Quindi, quando noi stiamo iniziando la capacità di l'emotione, quando noi harmoniamo l'occhio e l'occhio, due organi diventano un sistema, un sistema, un sistema, che è creato, per il nostro nervo, per interagire con l'acchio di energia, che interagire con l'acchio di energia. Science knowse c'è un campo, non è un problema di più, non è un problema di più. La questione è, come siamo collegati con l'acchio? Come molto influenziamo in l'acchio di energia? Questo è il nuovo fronteo della scienza. E quindi, la scienza dice che abbiamo questo potenziale, su un'altra parte, su un'altra parte, le nostre tradizioni più antiche, spirituale e indiginiche, hanno sempre detto che siamo collegati, e hanno detto come usare questa relazione. Non è la scienza, ma ci diciamo le tecniche. E quindi, le yogis, le mystiche, le shamans, le healer, le curandaros, le monti, le nuni, le abbots, le monasteri, le persone, 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 che, le persone, che, le persone, le persone, che, il meglio di noi, e il più potenzialo che ci siamo riusciti, il più rispettere il nonno di un mondo cambiato, e il mondo è cambiato molto veloce. Se sentiamo che siamo potenti in questo cambiamento, è vero. Se sentiamo che siamo imparati in questo cambiamento, diciamo, portiamo a fare un nuovo mondo. Questa è una risposta lunga a una domanda. Grazie. Grazie a tutti.